buongiorno amici ben ritrovati su Russian Watches Review uno dei pochi spazi online dedicati all'orologeria sovietica nel video di oggi voglio rispondere a una domanda che leggo spesso sui forum e sui gruppi facebook parliamo quindi dell'e-commerce di Meranom e precisamente di spedizioni e dogana prima di proseguire vi faccio il mio consueto invito a iscrivervi al canale seguirmi sui social in particolare su instagram trovate tutti i riferimenti in descrizione il canale sta crescendo e mi fa molto piacere avere dei sostenitori affezionati come voi allora andiamo a parlare di Meranom adesso ricorderete che qualche tempo fa ho acquistato il mio primo posto Canfibia moderno ve lo faccio rivedere anche oggi sto dedicando vari video e varie argomentazioni su questo orologio lo abbiamo aperto insieme in un video unboxing come potete vedere è ancora pellicolato ma sono in procinto di iniziare ad utilizzarlo e è nulla questo orologio quindi è per me la prima esperienza con il sito di Meranom un sito veramente famosissimo frequentatissimo da un sacco di italiani e io credo che statisticamente almeno tre o quattro volte alla settimana si possa leggere un nuovo post su facebook o sui forum riguardo richieste e consigli su quale modello acquistare insomma per consigli oppure richieste di feedback delucidazioni sui modelli in vendita eccetera però diciamo che due sono le domande più frequenti in questo riguardo Meranom e non sono domande che parlano propriamente di orologi le richieste di informazioni degli italiani prima di effettuare un acquisto su Meranom riguardano molto spesso i tempi di spedizione e l'eventualità di pagare dazzi doganali parliamone io ho un dato scientifico per calcolare i tempi di spedizione ovvero la spedizione del mio posto che quindi la testimonianza è più che diretta il mio ordine sul sito risale al 9 maggio 2019 per processare l'ordine ci sono voluti quattro giorni quindi la spedizione dalla russia è partita il giorno 13 maggio ecco qui ho anche tagliato il timbro che stava sul pacco della spedizione sul sito poi è possibile monitorare le varie fasi della spedizione al momento della partenza della spedizione il sito descriveva le tempistiche di consegna attese in un tempo previsto fra quattro e otto settimane naturalmente viene fornito anche un codice di spedizione che si può usare per monitorare autonomamente il tracking attraverso altri siti come ad esempio 17 track a questo punto ho riscontrato che seguendo la spedizione proprio sul sito di 17 track si possono visualizzare meglio i vari passaggi appunto del del pacchetto nel mio caso posso dire che il 18 maggio c'è stata la verifica doganale dopo ritorno anche su questo argomento comunque il 3 giugno il pacco è poi arrivato a milano e il 6 giugno a fiumicino per poi finire l'8 giugno giorno in cui c'è stata la consegna finale sempre in provincia di roma in totale ci sono voluti 30 giorni precisi precisi quindi diciamo che la stima iniziale di quattro settimane è stata ampiamente rispettata e considerando un viaggio penso che sia una tempistica ragionevole fra l'altro ho acquistato un orologio che prevedeva una spedizione gratuita quindi mi va benissimo nel caso in cui la spedizione vada pagata magari può essere utile rapportare i costi di spedizione ai tempi di consegna per me immagino si sia trattato di un servizio standard un servizio di spedizione basico quindi ne sono soddisfatto adesso veniamo al secondo punto e per farlo vi prendo anche la parte dell'imballaggio della spedizione da cui è possibile vincere la cosa di cui voglio parlarvi l'argomento della seconda parte del video è la dogana quindi si pagano onori doganali quando si compra da meranom e quindi dalla russia la risposta non può essere categorica però basandomi sulla mia esperienza su ciò che ho letto in giro e su ciò che dichiarano i venditori posso dare una risposta comunque attendibile innanzitutto partiamo dalla dichiarazione sulla merce riportata sull'etichetta possiamo vedere che il contenuto viene dichiarato come orologi mandati in riparazione oggetti cioè che stanno ritornando in italia dopo aver subito un intervento tecnico in garanzia quindi praticamente mi pare di capire che si dichiarano questi orologi come oggetti comprati tempo prima e che ora stanno semplicemente ritornando all'acquirente che nel frattempo li aveva rispediti in russia per assistenza o per riparazioni da fare appunto in garanzia quindi broken watch warranty return con la scritta in russo che immagino significhi la stessa cosa quindi io non so quanto sia corretta questa procedura però ve ne sto parlando liberamente anche perché ad oggi merano spiega benissimo anche sul suo sito quindi in maniera pubblica che dichiareranno il pacco come parti di orologi o appunto orologi rotti in garanzia di ritorno attribuendo un costo di 10 o 20 dollari per evitare le tasse doganali loro lo scrivono chiaro e tondo sul sito quindi non mi faccio problemi a dirlo di mio ero ben disposto a pagare anche le tasse che si sa comunque colpiscono casualmente gli acquirenti anche quando le spedizioni arrivano dall'oriente o dagli usa secondo la mia personale opinione infatti non è tanto questa dichiarazione a non far pagare le tasse doganali ma è più un fatto di assoluta casualità alla fine si tratta di pacchetti piccoli che secondo me vengono controllati a campione e quindi molto tirato comunque questa è la fotografia della situazione ciò che mi interessava descrivermi se comprate dal sito di meranom dovreste essere abbastanza tranquilli sul fatto che non si pagheranno tasse doganali e che riceverete gli orologi nei tempi previsti siccome questo era un video quasi tecnico io spero di non aver tralasciato nulla e di avervi fornito una specie di recensione abbastanza esaustiva se notate che io abbia trascurato qualche aspetto che per voi era importante approfondire fatemi pure le domande che ritenete opportune usando i commenti eventualmente io aggiungerei le risposte basate sempre sulla mia esperienza nella descrizione del video oppure in un commento che potrei mettere in primo piano quindi spero che questo video possa essere utile sia ora che nel tempo fornendo quindi un quadro generale della situazione doganale e sulle spedizioni di meranom io intanto vi saluto e vi do l'appuntamento a giovedì prossimo con una nuova avventura ciao